quando insegneremo nelle scuole ai nostri figli cosa sono a ciascuno di loro dovremmo dire sai cosa sei sei un prodigio sei unico in tutto il mondo non esiste un bambino esattamente uguale a te e milioni di anni sono trascorsi senza che se ne sia stato uno osserva il tuo corpo quale prodigio le tue gambe le tue braccia le tue abili dita il tuo modo di camminare potresti diventare uno shakespeare un michelangelo un beethoven non c'è niente che non potresti diventare sì sei un prodigio e quando sarai adulto potrai fare male ad un altro che proprio come te è un prodigio